Vittoria fondamentale per il Cus Palermo che vince contro il Camaratt 2-0 e continua a credere nella salvezza in virtù di questa vittoria e degli scontri diretti. In questo momento il Cus Palermo di Marco Aprile torna avanti rispetto alla formazione bianco-blu. Andiamo a vedere la sintesi con le immagini della Cus Palermo TV. Formazione di Aprile subito in palla dai primissimi minuti, occasione per Mercanti e Clemente, ma al ventunesimo arriva il vantaggio che viene costruito da Africano. Molto positiva la sua prova che con determinazione e un po' di fortuna, quella che era mancata al Cus le ultime settimane, va sul fondo. Mette un cross molto teso anche se basso e il pallone un po' fortunatamente va in rete per un vantaggio che risulta essere davvero liberatorio per la compagine giallo-rosso-nera. In virtù anche dell'ottima prova fornita sin dai minuti iniziali. Continua a provarci il Cus con una spina del fianco per la difesa del Camerat che si chiama Benny Raci, davvero ispirato, forse un po' impreciso, ma frutto come sempre del suo impegno e della sua determinazione. Ci prova ancora i raci, lo vedete, palla al centro, Mercanti non arriva davvero al gollo, solamente per un soffio. La conclusione incredibile è quella di Mercanti al quarantatresimo che vedete sfiora il gollo dopo una conclusione di Clemente. C'è Lauro da fuori che non riesce a inquadrare la porta e poi raddoppia al settimo di serie, una bomba al secondo palo che permette ai suoi di raddoppiare. Grande esultanza di tutta la panchina per un ragazzo che da quando è arrivato ha offerto tutta una serie di prestazioni increscendo davvero un punto di riferimento il numero 10 di aprile. Non a caso, vediamo tra pochi istanti dopo l'esultanza l'abbraccio che proprio serio vorrà dedicare al suo allenatore, lo va a cercare. Un grande abbraccio tra i due, ancora il Camerat con queste conclusioni da fuori che evidenziano comunque una giornata non positiva della formazione ospite. Clemente ci prova dalla distanza, non inquadra e poi la grande occasione della partita del Camerat con il calcio di punizione, la spizzica di testa, traversa. E poi sempre il Camerat che non riesce a trasformarla in gol. Iracia un passo dalla terza rete per i suoi al trentacinquesimo, però la sua conclusione esce davvero di un soffio. Ancora Iracia al quarantaduesimo, salta un avversario, voleva davvero il gol, ci ha provato in tutti i modi, ma l'estremo ospite para. E poi serio che sfiora la doppietta del 3-0 con questa bomba davvero sul finale che avrebbe anche meritato. Finisce una gara che vede il Cus Palermo vincere e adesso la formazione di aprile dovrà crederci, dovrà mettere cuore, umiltà e sacrificio come nella grande cavalcata della scorsa stagione. La salvezza è lì, bisogna crederci e continuare a lottare.